AutoCAD non ti aggiorna le viste in automatico, ti devi disegnare manualmente tutto ciò di cui hai bisogno, se hai una pianta in cui hai 5 finestre e 4 porte e per qualunque motivo aggiorni la situazione di porte e finestre, la devi quantomeno riportare almeno sui 4 prospetti e sul paio di sezioni che sicuramente avrai fatto, almeno. Poi sappiamo benissimo che nella realtà un progetto certo non si limita a 3-4 viste, parliamo di preliminare, di definitivo, di esecutivo, quindi tutto questo è moltiplicato, quindi anche se te la cavi con una pianta, 4 prospetti e 2 sezioni, tutto questo almeno lo devi moltiplicare per i vari stati della progettazione. Poi sappiamo benissimo che non è così, ci sono tutti i dettagli esecutivi, ovviamente non bastano 4 prospetti e 2 sezioni per rendere un fabbricato completo nelle sue informazioni. Su Revit tutto questo viene fatto automaticamente perché cambia proprio il metodo di creazione del progetto, mentre su AutoCAD tu devi fisicamente immaginarti prima e disegnare poi quello che vedi e non puoi permetterti di scordarti nulla perché se tutto lo scordi automaticamente quell'informazione mancherà sul tuo progetto. Quindi se ti scordi di cancellare anche in prospetto la finestra che hai cancellato in pianta, rimarrà quell'errore, con rischio che il muratore di turno poi vada a leggere l'elaborato non aggiornato e vada a fare l'apertura nel muro perché tu ti sei dimenticato di cancellarla. Quindi cosa accade invece su Revit? Su Revit tu modelli direttamente in 3D, è il software che guarda all'oggetto 3D dalle varie angolature, quindi quando è frontale stai facendo un prospetto, quando lo guardi dall'alto sezionando a una certa quadra stai vedendo una pianta, quando lo vedi dall'altissimo stai facendo una planimetria e così via. Questo vuol dire che non ti devi preoccupare di aggiornare una cosa che cambi su tutte le viste su cui quella cosa, quel muro, quella finestra, quella porta è riportata. Lo farà il software per te in automatico. Quindi magari all'inizio ci vuole un pochino di più, per esempio per disegnare tutto nei minimi dettagli su Revit, ma poi quando si tratta di, che poi non è nemmeno vero, però diciamo che a una persona che si approccia per le prime volte su Revit magari ci mette un pochino più di tempo rispetto alla velocità che ha su AutoCAD nel poter fare qualunque cosa velocemente. A parte che è tutte le difficoltà solide di chi inizia qualcosa di nuovo e va bene, ma poi quanto vale quando sei di fretta poter modificare le cose con due click e sai che quella modifica è stata già riportata su tutte le viste, su tutti i compi di metrici e devi solo ristampare le tavole e sei a posto così. Direi che non ha prezzo, vuol dire dormire più sereni la notte, vuol dire dormire la notte anziché lavorare, tutto questo veramente non ha prezzo. E se stai pensando, ah ma io ho sempre fatto così, ho sempre lavorato col CAD, ti chiedo, oggi disegneresti a mano, torneresti a disegnare a mano? Probabilmente ti stia facendo una stramega risata perché diresti no, vabbè ormai è superato, al massimo mi faccio lo schizzo iniziale e poi comunque passo al disegno CAD perché sai le potenzialità, la velocità del disegno CAD rispetto al disegno a mano e non ci penseresti proprio due volte a fare un progetto intero tutto completamente disegnato a mano sapendo che qualunque cosa devi modificare devi rifare l'intero disegno, no? Quindi così come i vantaggi del CAD rispetto al disegno a mano sono lampanti ed evidenti, se non vedi quelli sul BIM rispetto a CAD è semplicemente perché non hai guardato con sufficiente attenzione. Ti invito anche a vedere altri video di questo canale perché c'è di tutto e di più che ti mostra quanto effettivamente tempo puoi risparmiare con Revit rispetto al CAD. Così come non avresti dubbi se fare un intero progetto al CAD piuttosto che a mano, se effettivamente conosci bene il BIM e ti dai quel po' di tempo che naturalmente serve per imparare un software nuovo come Revit poi non tornerai più sui tuoi passi perché ti renderai conto che finora hai corso una maratona quando potevi andare in Ferrari.